Il protocollo firmato tra l'amministrazione comunale di Terra Nuova Racciolini e i gestori dei locali notturni per regolamentare il divertimento by night dovrebbe essere più efficace, prevedendo ad esempio sanzioni per gli esercenti che non rispettano gli accordi. Questo è il pensiero della lista civica Terra Nuova in Comune, intervenuta sul cosiddetto progetto Far Night, nato per prevenire eventuali problemi di ordine pubblico nel cuore della città. L'obiettivo va nella direzione giusta, ha detto il capogruppo Simone Nocentini, ma la forma dell'intesa è un po' blanda. La critica, diciamo, la prima critica che viene a questo tipo di protocollo, perché è un protocollo d'intesa, è proprio il fatto di essere un protocollo. Noi avremmo preferito fare un regolamento, un regolamento che quindi fissasse chiare regole e queste regole avessero diciamo così, delle sanzioni per chi non le rispettava. In questa maniera, a mio avviso, avremmo comunque responsabilizzato i gestori dei locali, ma avremmo anche avuto un riscontro su quella che è, diciamo così, l'attività notturna. Per Nocentini sarebbe stato poi necessario coinvolgere le forze dell'ordine. Dopo la mezzanotte, Terra Nuova, come altri paesi del Valdarno, è sprovvista del controllo della Polizia Municipale e non sto qui a dilungarmi, diciamo, su quelli che sono i motivi di questo. Detto fatto, le problematiche di ordine pubblico che ci sono state, sono state ovviamente nelle prime ore, quindi da mezzanotte in poi, ma soprattutto alla chiusura dei locali. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che si evidenzia palesemente la necessità invece che ci sia un controllo. Tra l'altro il protocollo d'intesa è stato fatto con i gestori, ma non c'è stato un intervento diretto e propositivo delle forze dell'ordine in questo e quindi è monco da questo punto di vista. Infine, non si è previsto un'estensione territoriale dell'accordo. Se si fa un protocollo d'intesa, non vedo perché non si debba prendere in considerazione anche il beta bar del parco pubblico attrezzato.